Quello che capita nel tuo cuore, nelle tue relazioni, quello che capita intorno a te e non c'è l'ente migliore per poter leggere la storia che attraverso gli occhiali della parola di Dio che è sempre parola di bene e parola che vuole fare il bene. Ecco in questo giorno, festa di San Leonardo che come abbiamo detto è stato un discepolo fedele della croce del Cristo e che ha penetrato il mistero della croce, mentre celebriamo questa Eucharistia ai piedi di quel crocifisso che a Padre Pio ha non solo parlato ma si è immedesimato con lui fino al dono totale delle stigmate, chiediamo al Signore la grazia di penetrare un po' di più il mistero del dolore che ciascuno di noi attraversa nella vita di ciascuno. Chissà quanti dolori ci sono nelle vostre famiglie, nel vostro cuore, nelle vostre relazioni, quante ferite portiamo dentro. Ecco in quelle ferite possiamo non solo essere in compagnia del Signore ma fare spazio a Lui perché la ferita diventi feritoia dove passa la sua grazia. Chiediamo questo dono a Lui per intercessione di San Leonardo e per intercessione di San Pio. Grazie. Grazie.